buongiorno buongiorno amici buongiorno a tutti come state tutto bene ho parlato stamattina col mio barbiere il mio barbiere della zona e ho detto guardi io settimana prossima appena torno a casa non so se giovedì o venerdì dovrebbe essere fatti trovare pronto a domicilio perché la prima cosa è questa qua di questa roca io mi sono fatto pure lo shampoo grazie a dio è tutto rosso è la prima cosa mi deve sistemare tutte queste capigliature un bel taglio è così ci mettiamo a nuovo è come prima cosa l'ho detto al mio amico albire e quindi praticamente si contano ormai i giorni quindi poi si continueranno terapie a casa a livello respiratorio però ormai siamo qua ancora un buon esercizio di pazienza un esercizio di pazienza domani domani ci sta l'udienza angione e non so se avete notato sulla pagina facebook della dottoressa è stato lanciato un altro sassolino io ci ho parlato ieri posso dire con la mia amica io vedete non pensavo che avesse questa grande umanità questa grande sensibilità ma di angione mi ha gratificato diciamo con la sua amicizia e si interessa al mio stato e si si relazioniamo pure per quanto riguarda il caso abbiamo lei come dire uno scambio di opinioni e quindi non so se avete visto c'è sassolino lo zio d'america è uscito lo zio lo zio d'america un messaggio criptico lo zio d'america tutti quanti a dire ma che sarà questo zio d'america diciamo ognuno adesso lo interpreta a modo suo alla dottoressa di una intelligenza eccezionale può significare tanto può significare tutto come aforismo ad esempio lo zio d'america colui che porta la soluzione no nell'immaginario collettivo dice ma ci vuole lo zio d'america per per scoprire questo per arrivare una soluzione quindi può essere anche un modo di dire ma ma diceva la dottoressa diceva che alla fine ci sono degli intrecci tali che una persona non può nemmeno immaginare quindi ci vuole una persona questo zio d'america che risolve la matassa che la matassa è complicata proprio dagli intrecci così pervicaci nel tessuto di quel tipo di società che spesso in passata ha ospitato anche personaggi della malavita legati alla malavita locale quindi questo intreccio è così consolidato che ci vuole lo zio d'america quindi uno zio d'america che risolve i problemi di solito chi non lo vorrebbe avere immaginate di solito è quella persona che c'ha tanti soldi che dice ah se avessi uno zio d'america con tanti soldi che mi risolvesse i problemi che mi lasciasse una eredità magari e che quindi con questa eredità io potessi risolvere i problemi della mia vita un disolutore però attenzione ai particolari questo zio d'america ritratto nella nel nel sito facebook nella pagina facebook di mariancione c'ha però il volto del pistolero il volto del combattente del pistolero quindi uno zio d'america che non ha paura che combatte per la verità e questo che ci vuole qualcuno che butti alle spalle la paura la paura di scoprire la verità quindi ciò significa che tutto ciò che lei ha denunciato in passato oggi lo si vede con come dire una nuova significanza il fatto di all'epoca non essere collaborata sempre dalle forze di polizia non era solo una timida impressione il fatto che lei cambiò le forze di polizia in campo per le indagini affidandosi ai carabinieri non è un caso quella perquisizione mancata a casa di anna corona non è un caso quelle sim attivate contemporaneamente ammazzate del valle primo settembre 2004 non sono un caso come pure non è un caso il fatto che a bazzara ci siano alternati vari pm per pochi mesi per qualche anno come sede disagiata immaginate come sede disagiate poi sono transitati in altre procure quindi già questo devono male ma lei stessa che aveva chiesto il trasferimento a sassari dopo che purtroppo aveva manifestato tutte queste cose che non andavano bene che non andavano per il verso giusto ebbene cosa succede succede che prontamente viene accontentata viene accontentata quasi e viene trasferita si poteva pure aspettate no perché era un momento in cui l'indagine entrava nel vivo in cui si stavano seguendo varie varie piste quindi forse marian giovani cominciava a dare fastidio già delle fastidie quindi è stata accontentata nella sua richiesta di trasferimento posso pensare questo quindi adesso questo zio d'america questo messaggio così criptico è un messaggio che significa ci vuole un disolutore qualcuno con la faccia del pistolero che risolva il problema con coraggio con coraggio come lo zio d'america nella fantasia delle persone risolvi i problemi economici dando un'eredità queste cose qua così questo zio d'america dovrebbe essere una persona che va a risolvere le problematiche di questo caso saremo veramente curiosi di vedere cosa porta quest'altro sassolino lanciato va bene quindi vediamo domani cosa succede e ci risentiamo quindi il mio conto alla rovescia procede quindi giovedì venerdì settimana prossima finalmente a casa vedremo pure la partita il derby con i ragazzi finalmente quindi se vi interessa anche la cosa sportiva e vi do appuntamento a domani seguitemi condividete il video vi voglio bene ricordatevi sempre vi voglio bene e vi mando un abbraccio un bacio a tutti quanti ciao a domani ciao